Buongiorno e benvenuti. Ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa di TV6, questo giovedì 18 gennaio 2018, già la data per noi abruzzesi vuol dire qualcosa, perché vedete alle mie spalle la prima pagina del centro, ma poi vedremo che anche gli altri quotidiani abruzzesi più o meno danno ampio spazio. Un anno fa, dicevamo, ci fu la tragedia di Rigopiano che spazzò via il resort portando via con sé 29 persone. Oggi ovviamente è una giornata di commemorazioni proprio a Rigopiano e già dalla rassegna stampa ovviamente noi saremo in diretta con il luogo diventato simbolo di una tragedia immane, quella proprio di un anno fa. Ovviamente lo faremo insieme ai giornali, ma non solo, nella seconda parte soprattutto saremo proprio a Rigopiano. Allora cominciamo con le prime pagine dei quotidiani di casa nostra. Le quattro edizioni del centro che di solito cambiano il titolo di apertura, oggi ovviamente no. Sono tutti uguali i titoli delle quattro edizioni, perché? Insomma c'è una richiesta che viene dal quotidiano, ma ovviamente anche da tutti i cittadini abruzzesi. Solo giustizia per Rigopiano, un anno fa la valanga che ha travolto il resort è ucciso 29 persone e ovviamente l'Abruzzo. Non dimentica, questa è una foto, i drammatici momenti di un anno fa, quando i soccorritori, davvero tanti e impagabili, hanno provato a strappare quante più vite possibili al ghiaccio e alla morte. E ovviamente c'è anche l'analisi di Piero Anchino. Ricordare gli angeli è un dovere di tutti. Oggi l'Abruzzo rivive il dolore della terribile sera del 18 gennaio 2017. Un ricordo che non sparirà la tragedia dei 29 angeli di Rigopiano, sconvolto dalla nostra regione. Non dimenticarla ovviamente, è un dovere di tutti. E poi ovviamente ci sono altri articoli correlati alla tragedia, alla commemorazione. La sopravvissuta, la bronzi, la ragazza sopravvissuta, peraltro fidanzata di Stefano Feniello, che dice Stefano mi dà la forza di andare avanti. L'inchiesta, che ovviamente va avanti, il rischio valanga, l'allarme solamente dopo la strage. E poi lunedì i familiari delle vittime saranno ospiti del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ovviamente. Scendiamo nelle cronache, ovviamente siamo sull'edizione pescarese. E allora, Pescara raddoppiati i vigili urbani per la lotta al degrado. Lavori al porto, cominciato il taglio della diga foranea. La provincia pronta a pagare gli arretrati agli ex precari, si parla di lavoro. E per il calcio, coda rilancia. Il Pescara vale più dell'ottavo posto. Peraltro, ieri, l'amichevole allo stadio adriatico contro gli svizzeri del Lugano, terminata 3-1. Poi, nella seconda parte, ovviamente, vedremo anche le immagini della partita. Abruzzo Amatrice, strada al palo. I sindaci chiedono di sbloccare i lavori da 41 milioni. La via dei soccorsi fermata dalla burocrazia. E poi il caso ambiente. Il no al nuovo depuratore nel cuore del parco. Come vedrete, la prima pagina non cambia, anche sull'edizione teatina. E allora, andiamo direttamente nelle cronache. Questa è l'edizione di Chieti. 30 kg di droga messi sotto terra, arrestati. E questo è quello che vedete raffigurato. Il cane che l'ha fiutato. Che ha fiutato questi 30 kg di droga. Un quantitativo record, si legge, di stupefacenti. Sempre a Chieti. Libretti postali svuotati agli anziani. Due persone vanno a processo. Andiamo ad Atessa. Sempre questioni di lavoro. Onda deve reintegrare 10 precari che sono stati licenziati. A vasto ladrinazione in ospedale. Rubate le divise del 118. Cambiamo edizione. Andiamo su quella teramana. Nelle cronache, a parte preponderante, e la richiesta del PM processate d'amico. Ovviamente si parla di Luciano D'amico, rettore dell'Università di Teramo. L'inchiesta sul doppio incarico di rettore dell'Università e anche presidente della tua. A Giulianova, Mastro Pietro ancora a giudizio per le tangenti. Parliamo del caso Castrum. A Teramo, l'ex manicomio, parte il recupero da 35 milioni. Una vicenda che abbiamo seguito ieri e che abbiamo proposto nel corso dei nostri notiziari. Chiudiamo le quattro edizioni con quella aquilana. Andiamo anche qui, nelle cronache, perché come vedete l'apertura rimane sempre la stessa. Muore neonata, scatta l'inchiesta. Tragedia. Pesca a Seroli. Aveva solamente tre mesi. Soccorsi ritardati dal maltempo. Sempre all'Aquila, operazione Periferie Sicure. Due arresti per spaccio ad Ortucchio, morto vicino a Laghetto, si indaga su un filmato. Chiudiamo con il centro e vediamo la prima pagina del Messaggero. Edizione, ovviamente, abruzzese. Anche qui, l'apertura è legata a Rigopiano. Un anno senza giustizia. Rigopiano, parenti e amici delle 29 vittime, chiedono di accertare rapidamente la verità per il primo anniversario. Una serie di manifestazioni a cui parteciperà anche il Vescovo. E vedete, nella fotonotizia, l'inchiesta. La procura indaga sulla trappola di ghiaccio. Rischio valanghe e viabilità. Ignorati. Ad un anno dalla tragedia, gli investigatori lavorano ancora al caso Rigopiano. Due fronti principali. La mancanza di una mappa delle valanghe, si legge, il mancato intervento per rieprire la strada dell'hotel e salvare così le 29 vittime che si trovavano nel resort. Ancora, cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in tema cronaca. Bambina soffoca, l'elicottero non interviene. La tragedia di Pescasseroli. La piccola vittima probabilmente di un rigurgito. Indagine sul mancato utilizzo del mezzo aereo. Saliamo in alto perché andiamo a Teramo. Doppio incarico. La procura vuol processare Luciano D'Amico. Acchieti, abusi sessuali, baby atleti contro l'allenatore di baseball. E per il calcio, il nuovo acquisto del Pescara Gravion, che dice, non potevo dire no al Pescara di Zeman. Di spalla per la politica, ovviamente ci proiettiamo verso le urne per le politiche del prossimo 4 marzo. Forza Italia dice, D'Alfonso non ha fatto nulla di buono. Scendiamo in fondo per vedere a Pescara gli staccanovisti della cocaina. Andiamo adesso sull'edizione, sulla prima pagina della città quotidiana della provincia di Teramo. Qui cambia l'apertura. Presentata la cittadella della cultura. Il rettore Luciano D'Amico illustra il progetto di recupero dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Antonio. In alto però c'è un richiamo ovviamente a Rigopiano. Anniversario con polemiche. Scendiamo chiesto il processo però abbiamo visto le questioni che riguardano il recupero dell'ex manicomio di Teramo ma in basso ovviamente torna il rettore D'Amico perché chiesto il processo per il magnifico doppio incarico tablet e indennità. Stessa richiesta non solo per Luciano D'Amico ma anche per due professori. Di spalla, appalti giugliesi, castrumbissa, processo tutti e sette. A Tortoreto, droga sulla costa, chiesto il giudizio per gli spacciatori, il carabiniere e il poliziotto. A Roseto, pali della luce, abbattuti dal vento e dalle critiche, il project finisce. All'ANAC. Queste le prime pagine dei quotidiani di casa nostra. Adesso vediamo rapidamente anche alcune prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere anche le questioni di carattere più strettamente italiano in senso generale. Partiamo dal Corriere della Sera che apre con la politica. Primarie 5 Stelle, liti e ricorsi, l'appello di Mattarella per il 4 marzo. I cittadini non si limitino a guardare verso le elezioni. Consultazione a rilento per la scelta dei candidati online dei 5 Stelle. E ovviamente c'è la protesta degli esclusi. Scendiamo in pagina. Molesti a scuola per la cronaca. Fedeli, accelerare i licenziamenti. La ministra dopo il caso al liceo Massimo. E la fotonotizia, invece, Churchill è il leader sul set. La rivincita dell'era ideologica cinema e memoria dal premier britannico a Stalin. La storia fa spettacolo. Cambiamo quotidiano. Andiamo su Repubblica che continua ad aprire con la politica. Candidati Movimento 5 Stelle, caos e proteste. doppia apertura perché in Niger così sarà la missione Italia. C'è anche politica estera. Liste PD 40 posti offerti alla minoranza. Renzi, Gentiloni e Minniti saranno nei collegi uninominali. Ma ovviamente c'è la questione grillina che diventa un caso. Quanto pesa l'assenza di Grillo? Grillo e poi, anche un'altra analisi, quei rischi nella guerra del deserto. Ovviamente parliamo della missione italiana in Niger. In basso, Milano chiesta la soluzione. La PM si schiera con Cappato. Non posso accusarlo per la morte di Fabo. Ricordate la questione di DJ Fabo. Il fatto quotidiano. Il governo vuole decidere cosa si può dire e cosa è fake news. Censura di polizia. Voto, Minniti e Gabrielli schierano il commissariato digitale. In alto, archiviò Renzi, la figlia, e assunta da Nardella, il sindaco di Firenze. Chiamata diretta dal comune per la giurista 28enne. Poi nomine e corruzione, indagato, Babbo Alfano, Agrigento, Girgenti Acque. Avviso di garanzia anche al prefetto. Libero. Anche qui la questione è prettamente politica. è definita come un flop dell'anti-berlusconismo. La gente si è stufata degli attacchi politici e giudiziari al Cavaliere, il quale, nonostante l'età e il massacro subito per 25 anni, rimane l'uomo da battere. Alle prossime elezioni ci sarà da divertirsi. Viene definito il fallimento della sinistra che rilancia ovviamente Berlusconi. e poi scendiamo, andiamo di spalla l'eutanasia di DJ Fabbo e la politica non ti lascia neppure morire in pace. Per fortuna c'è un PM, l'analisi di Filippo Facci. Il messaggero. Apertura, molestie, un codice per i prof. Abusi nelle scuole, nel nuovo contratto no a chat private ed sms. Sanzioni fino al licenziamento. Il colloquio, il ministro Fedeli. Gli insegnanti che approfittano del ruolo devono lasciare la cattedra. Ma ovviamente, vedete che c'è, non può mancare. Un richiamo. Rigopiano, una ferita aperta. Manca la polizza dell'hotel. Un anno dopo, vittime feriti. Stimati, 30 milioni. Si torna a centropagina sulle parlamentari e Movimento 5 Stelle. Le parlamentari sono finte. La base del Movimento 5 Stelle boccia il voto online. Mattarella, appello contro l'assenzione. Nessuno si chiami fuori. Il manifesto che definisce un blob. Evidentemente, le parlamentari e Movimento 5 Stelle. La massa di aspiranti candidati al Parlamento del Movimento 5 Stelle manda in tilt la piattaforma dei grillini. Sul blob succede di tutto e monta la protesta degli esclusi che minacciano dei ricorsi giudiziari. In alto, il sì della Camera all'intervento nel Sahel, l'Italia che va in Africa. Tutto come previsto, la soluzione del Governo è la missione proprio in Niger. Il Sole 24, quotidiano economico. BCE delude le banche. Niente sconti sugli NPL. Nessuna apertura sulle svalutazioni automatiche. E poi, verso il voto, sotto la lente dell'Europa, in Germania torna il timore della vecchia Italia, Cicala, che difficilmente guarda al futuro, ma quanto mai al presente. A centropagina, bonus fiscali ad adatto impatto, super ammortamento anche per autonomi e mini imprese. Ovviamente, il focus è tutto dedicato alle questioni tipicamente economiche. E poi, il tempo quotidiano romano, Ridi Pagliaccio, si riferisce alla querelle che ha visto il protagonista, suo malgrado, Gene Gnocchi, che ribattezza Claretta Petacci, il maiale, nei rifiuti di Roma. La sette, Boldrine e Ampi, femministe, nessuno condanna il comico. E vergogna. Questo per il tempo. Ovviamente, siamo sul quotidiano tipicamente capitolino, e allora il reportage sulla malasanità, Spallanzani, pochi soldi, ed è il caos. La stampa, Niger, centrodestra diviso sulla missione, Mattarella appello per il voto, ma un 18enne su due si dichiara disinteressato. Forza Italia, col governo sul piano per fermare le migrazioni. La Lega si astiene, Renzi annuncia, Gentiloni e i ministri saranno candidati. E poi, ricordate la vicenda di qualche giorno fa, del candidato in Lombardia Fontana, una stupidata, la mia frase sulla razza, il candidato leghista in Lombardia, sui migranti, non funziona niente. Per il credito, nervi tesi sulle sofferenze, la BCE incalza le banche. Il mattino quotidiano partenopeo di Napoli, con un focus su Napoli, De Luca, il governatore della campagna, pagano i genitori, baby gang, migliaia di giovani in piazza, lo Stato ci aiuti, il governatore della campagna, famiglie corresponsabili dei violenti, aumentare le pene sotto i 16 anni. Di lato le questioni politiche, l'appello al voto del Colle, Movimento 5 Stelle, parlamentarie, caos, Bassolino candidato, il gelo di Grasso. Il giornale, De Benedetti, fa il furbo, Scalfari è rimbambito, volano gli stracci a Repubblica, l'ingegnere minimizza i suoi guai, attacca il fondatore Grillo, poi la versione di una telefonata con Berlusconi, assunzioni pilotate, indagato il padre di Alfano. La verità, rapidamente le regioni si indebitano per curare i clandestini, il danno è la beffa, la legge impone di offrire sanità gratuita, farmaci compresi agli irregolari, le asle dovrebbero essere rimborsate da Roma, che però non copre neppure metà delle spese, così tagliano i servizi agli italiani. Poi il sindaco di Arezzo fa causa alla Boschi, il crack di Etruria ci ha infangati. A centropagina, sondaggio da panico per il PD, è crollato al 20,2%, per la prima volta nero su bianco i timori di Renzi, Movimento 5 Stelle, primo partito al 27,8%, Berlusconi stacca Salvini, 15,3% contro 11,7%. Andiamo rapidamente avanti per vedere il danno d'immagine del sindaco di Arezzo, Ghinelli, che ovviamente è riferita a Maria Elena Boschi, in basso Meloni contro Bruxelles, UE vuole fregare l'Italia, Movimento 5 Stelle al governo con tutti, appello ai Volta Gabbana, Renzi candida alla Cantone, definì Matteo un bla bla. Adesso andiamo sui quotidiani sportivi, partendo dalla Gazzetta dello Sport, ovviamente le questioni del mercato, che continuano ad essere preponderanti in questo gennaio, anche se nel fine settimana ricomincia il campionato, intervista esclusiva al difensore del Napoli, Koulibaly, che dice, Napoli ti devo lo scudetto. Il difensore Sarri mi disse, ascolta mi sarei un campione, è sull'Atalanta, il dominio della Juve può essere spezzato, dice il difensore Azzurro, tocca a noi, il titolo si vince anche divertendo, l'Italia ha un'immagine razzista, ma in città non lo sento, io qui sono felice. Dall'altra parte, altre questioni di mercato, il mercato delle idee, Nerazzurri aspettando Rafinha, Inter spunta Daniel Starridge, Liverpool offre l'attaccante in prestito, il brasiliano Rafinha è più vicino e Ramirez spinge. Il commento di Carlo Laudise, esperto del mercato, grande firma della Gazzetta dello Sport, la fantasia del low cost. E poi Marotta, che dice, CR7 una suggestione, sapete che insomma, CR7 Cristiano Ronaldo ha delle difficoltà nel rinnovo con il Real Madrid, chissà che non possa venire in Italia. Altre trattative, Toro assalto a Donzà, Giaccherini vuole il Chievo. E poi questa notizia, insomma, che qualcuno avrà sentito, ma è questione di qualche giorno fa, due Coree, una bandiera, la notizia di ieri è che le due Coree sfileranno insieme ai giochi invernali. Questo è veramente un fatto storico, le Olimpiadi, che ci saranno invernali, che iniziano tra 22 giorni e saranno proprio in Corea. Insomma, è un fatto quantomeno storico. Lo sport arriva, dove evidentemente spesso la politica fallisce. Il Corriere dello Sport apre con questo titolo tutti con Gigi. Buffon è davvero alla stagione d'addio. Il mondo Juve spinge perché continua e la decisione finale verrà presa solo dopo un colloquio con Andrea Agnelli. In alto, il mercato, Rafinha, ultimo sì all'Inter, atteso il via libera del Barça, Correa, il Siviglia, chiede Brozovic, Belotti, sogna il Milan, giugno si torna alla carica, le difficoltà con il Torino ridanno. Fiducia ai Rossoneri, di spalla, le Coree ai giochi sotto la stessa bandiera. In basso, altre questioni, un Cannavaro al Benevento in arrivo dal Carpi, il figlio di Fabio, andrà in primavera, gioca esterno. Poi la corsa alla FIGC, Tommasi Gravina, segnali d'intesa, lungo colloquio tra i due candidati, Real, anno zero, il futuro è Neymar, via CR7, Bale e Benzema, ci sarà una rivoluzione da parte di Florentino Perez. E poi, una vicenda, che è quella del Vicenza, perdonate il bisticcio di parole, entra in campo Pablito Rossi, che sapete, insomma, parecchi anni fa ha giocato proprio con la maglia del Lane Rossi, pronto a metterci la faccia per ridare un futuro alla società. Peraltro Vicenza, che dopo domani sarà in campo al Bonolis contro il Teramo per la seconda di ritorno del campionato di Serie C. E poi l'intervista a Fabio Aru, Nibali, se serve, lo aiuto ai mondiali, potrei correre per lui, la gente vorrebbe che fossimo nemici. E poi, forum di mercato è l'apertura di Tutto Sport, chi prende chi, ci sono alcuni giudizi e considerazioni da parte degli agenti di mercato più importanti, che vedete raffigurati nella foto, con alcune valutazioni. E poi, in alto, forum di mercato con gli agenti, Lewandowski, un colpo da Juve, Mazzarri, Belotti e l'autogol di Cairo e in basso, altre questioni, in casa Inter, ultima offerta per Rafinha, oggi o mai più, il Milan, il derby di Montella privato, Ianto va a Siviglia, Torino riparte, siamo con il basket con Recalcati, trionfando in Euro Cup, Sofia Goggia, il mio amore, la discesa. Con questa prima pagina noi chiudiamo la prima parte di mattino 6, ovviamente la seconda parte sarà molto più ampia e con un ampio spazio dedicato alla commemorazione un anno dopo la tragedia di Rigopiano. Adesso le previsioni del tempo, pubblicità e poi torniamo insieme. Seconda parte di mattino 6 siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra per le principali notizie, quelle che ci propongono appunto i fogli che trovate già in edicola. Partiamo con il centro che vedete alle mie spalle, la pagina dedicata all'Abruzzo che apre con la strada che ci porta verso il voto del 4 marzo. Movimento 5 Stelle domenica c'è Di Maio e Grillo resta un'incognita. Pescara da domani a domenica ecco il programma del villaggio Russo accreditati 100 giornalisti di Battista Parla Sabato ma la Raggi non ci sarà candidature in casa partito democratico di Pietrantonio agli uscenti basta polemiche collaborate il segretario pescarese del partito interviene giorni dopo Castricone blinda D'Alfonso e ribatte non è vero che chi è stato in Parlamento adesso tocca ritornarci. In basso questioni che riguardano il centro-destra perché Forza Italia va all'attacco della Regione le critiche di Sospiri Febbo e di Stefano con la campagna elettorale ovviamente si andrà incontro ad uno stallo istituzionale andiamo avanti entriamo proprio sulla pagina di Pescara la squadra speciale raddoppiati i vigili urbani per dire basta al degrado il comune potenzia il servizio avviato a ottobre ora sono 13 gli agenti addetti in alto ci sono anche riassunti i numeri gli interventi i controlli e le sanzioni che ovviamente poi entrano nel nel dettaglio l'obiettivo è reprimere l'abusivismo la prostituzione lo spaccio e l'accattonaggio dall'altra sull'altra pagina ovviamente una doppia pagina tanti controlli in tre mesi sventato anche un furto primo bilancio svolto dal nucleo operativo il giorno della polizia municipale interventi anche nei parchi e nelle scuole per prevenire il fenomeno veramente odioso del bullismo in basso aperta la nuova strada accanto al ravasco inaugurazione con i bambini della scuola elementare vedete anche il taglio del nastro con il sindaco Alessandrini e il vice sindaco Blasioli andiamo avanti ex precari provincia pronta a saldare il debito la vertenza al traguardo l'ente deve 880 mila euro ai dipendenti a cui era stata promessa la stabilizzazione alla fine del lungo contenzioso il via libera del consiglio somma divisa in tre anni andiamo ancora avanti rimanendo sempre a Pescara perché parte il taglio della diga presto il progetto dei moli il varco sarà ampio 70 metri realizzata anche una scogliera sott'acqua del vecchio l'inizio dell'intervento è una risposta importante agli scettici la manifestazione i carabinieri forestali insegnano a bambini il rispetto ambientale incontro con 250 studenti della media Virgilio dei Colli presentato il calendario sulle specie animali protette che sono un patrimonio della nostra regione ma non solo cambiamo pagina l'apertura Masseroni docente di nutrizione sana la campionessa mondiale di ginnastica ritmica incontrerà stamane gli studenti dell'istituto alberghiero in basso il mantonea la maratona digitale l'istituto tecnico unica scuola abruzzese selezionata per HAC 2030 a Bologna allora complimenti ai ragazzi dell'istituto mantonee andiamo a Montesilvano e poi cambieremo quotidiano andremo sul messaggero per vedere anche la pagina pescarese del messaggero la variante contestata a case vista mare spunta un parere legale dirigente comunale aveva sollecitato gli amministratori a integrare un'istruttoria considerata carente di dati tecnici per la cronaca ruba la birra in un bar a Grisci Carabinieri viene preso il 27enne ha rifiutato di pagare e si è allontanato dal locale ma è stato acciuffato poco dopo e poi è tornato libero e poi qui inizia lo speciale di Rigopiano di cui parleremo tra poco perché siamo per andare proprio a Farindola ma intanto cambiamo quotidiano andiamo sul messaggero Pescara lotta al degrado Giona alza il tiro il bilancio dei primi tre mesi del nucleo di polizia municipale Teodoro presso iniziative importanti con le forze dell'ordine sgomberati bivacchi sanzioni per prostitute e clienti guardia alta contro spacciatori e parcheggiatori abusivi scendiamo in pagina nuova Pescara in consiglio sale lo scetticismo sui tempi sempre a Pescara i signori della droga lavorano tutto il giorno per un tiro di cocaina intercettazioni dell'operazione Sparta svelano l'identikit dei clienti del clan Spinelli impiegati professionisti giovani attempati tutti in fila da carmosina e allora adesso visto che siamo alle 8.33 e visto che oggi come detto è una giornata particolare possiamo rientrare vedete lo speciale su Rigopiano perché oggi è 18 gennaio e allora noi andiamo in collegamento do il buongiorno a Paolo Renzetti in collegamento da Farindola se non erro buongiorno Paolo allora questa è una giornata particolare che seguiremo insieme a te dalle prime luci dell'alba fino a quando le commemorazioni del 18 gennaio non andranno in archivio buongiorno Paolo sì grazie grazie Jacopo buongiorno buongiorno ai nostri telespettatori detto bene siamo a Farindola siamo nel centro del piccolo paese dell'area Vestina e ringrazio davvero in maniera sentita Massimiliano Giancaterino ex sindaco di Farindola oggi ovviamente addolorato come tutti i parenti delle vittime perché Massimiliano Giancaterino nella tragedia di un anno fa del 18 gennaio dello scorso anno ha perso il fratello Alessandro che era il capo cuoco dell'hotel capo cameriere dell'hotel Rigopiano oggi è la giornata del dolore del ricordo a distanza di un anno io ti chiedo che cosa ti senti di dire quali sono i tuoi pensieri le tue impressioni come stai vivendo questa giornata che è comunque una giornata particolare beh innanzitutto tu hai detto mi hai ringraziato ma sono io che ringrazio voi ringrazio la stampa perché in questo anno ci avete aiutato a non a fare in modo che non si dimenticasse la tragedia e le vittime quindi è un il vostro ruolo è assolutamente meritorio purché sia rispettoso ma di questo non ho mai avuto dubbi sia rispettoso della verità la giornata beh è inutile nasconderlo è una giornata particolare un anniversario di una tragedia che ha colpito non soltanto me personalmente non soltanto il mio paese ma credo l'intera opinione pubblica nazionale forse anche oltre e cerchiamo di cercheremo di viverla come meritano come meritano di essere ricordati i nostri morti quelle 29 vittime hanno diritto a che la loro la memoria del loro sacrificio non si perda che non sia soprattutto che non sia stata vana perché tragedie simili non si ripetano più a questo serve commemorare non solo a rendere omaggio alle vittime ma anche a fare in modo che si possa nel futuro evitare il ripetersi di un fatto simile poco fa ringraziavi proprio la stampa per aver tenuto mantenuto i riflettori accesi su questa tragedia l'augurio è che però dopo la giornata di oggi si continui a parlare di quello che è successo lo scorso anno all'hotel Rigopiano si continui a parlare ma così che se ne parli non in maniera non vana che si si parli di questa cosa in modo costruttivo sia per pervenire alla ricostruzione esatta del fatto storico e consentitevano anche giudiziario dal punto di vista giudiziario ma anche appunto perché possano essere messe in campo quelle forze quegli perché no quegli accorgimenti per evitare che in altri luoghi tragedie simili non debbano ripetersi quello è l'importante non occorre non è sufficiente soltanto parlarne così giusto per dire Errico Piano sì 29 morti eccetera è importante parlarne per quello che ho detto soprattutto per evitare che si ripetano che si ripetano fatti di così straordinaria portata vogliamo parlare un attimo Massimiliano di quella che sarà la giornata di oggi e quali saranno i momenti più importanti perché si inizierà tra poco con una cerimonia proprio nei pressi dell'hotel di Errico Piano poi ci sarà una fiaccolata una santa messa e poi anche nel pomeriggio ci saranno altre commemorazioni sì io il programma non lo conosco nel dettaglio io parteciperò alla santa messa con i miei familiari con i miei compaesani alle 11 o 11 e mezza adesso non alle 11 penso e poi mi recherò privatamente penso insieme a mia mamma perché mio papà non ce la fa mi recherò a Errico Piano per un momento mio particolare di così di raccoglimento nel luogo della tragedia tutti quanti parenti voi parenti delle vittime avete detto noi non vogliamo vendetta vogliamo solo giustizia beh sì faccio una battuta che la si voglia o no la giustizia sarà inesorabile arriverà alla definizione delle responsabilità bisogna soltanto affidarsi al lavoro dei magistrati che stanno lavorando all'indagine quindi non ho dubbi che si arrivi a definire verità e responsabilità a proposito dell'indagine dell'inchiesta tu sei anche uno degli indagati dei 23 indagati di questa inchiesta ovviamente non ti chiediamo nulla dell'inchiesta anche perché non risponderesti è chiaro nel merito però come come ti senti a vivere questo doppio dolore da fratello di una delle vittime da indagato in questa inchiesta beh è una situazione non lo nego difficile ma che penso di interpretare nel modo in cui mi sento e cioè il fatto che io sia indagato non vuol dire non nasconde il mio dolore per la perdita di mio fratello e di altri amici così come viceversa il fatto di essere fratello di una delle vittime non deve così porre in secondo piano la mia veste di persona indagata io mi sono rimesso al lavoro della magistratura e aspetto con serenità sono tranquillo sono sereno ho fornito loro quelle che sono le mie ragioni aspetto che loro assumano le loro determinazioni non ho altro da aggiungere su questo aspetto a distanza di un anno torniamo a parlare di quello che è successo il 18 gennaio dell'anno scorso a distanza di un anno qual è il ricordo più bello più forte che porti nel tuo cuore di tuo fratello Alessandro beh i ricordi di mio fratello ne ho tantissimi un fratello è sempre il primo compagno di giochi è la prima persona soprattutto perché noi eravamo quasi consecutivi soltanto un paio d'anni quindi i ricordi ne ho tantissimi li conservo li porterò nel cuore sempre con me di quella giornata in particolare ho ricordi molto confusi perché non solo di quella ma anche di quelle successive perché tu quando arrivasti su all'hotel Rigopiano no io in quei giorni non sono mai andato per evitare di intralciare le operazioni di soccorso sarei stato del tutto inutile io conoscevo bene la struttura e quindi nel caso sarei potuto essere utile magari per aiutare i soccorritori ma a svolgere quel compito molto egregiamente c'erano già Fabio Salsetta e l'altro mio amico Domenico Mascia quindi ritenni inutile salire a Rigopiano anche se fosse stato necessario non avrei avuto alcuna esitazione ad andarci un grande lavoro quello dei soccorritori in quei giorni in condizioni difficilissime se ne è parlato tanto però credo che un pensiero vada anche a quei soccorritori che hanno rischiato a loro volta la vita per cercare di salvare delle altre vite assolutamente questo è sottinteso l'ho detto dal primo minuto hanno svolto un lavoro assolutamente eccezionale io l'altra sera ho visto un docufilm su una rete nazionale sul digitale terrestre e sono rimasto impressionato da quello che ha detto il capo il coordinatore dei soccorsi che era un dirigente dei vigili del fuoco lui ha detto che si erano trovati davanti a dei terremoti quindi crolli di edifici totali come in quel caso si erano trovati davanti a delle valanghe nel loro ma mai ad un crollo di un edificio associato ad una valanga quindi è stata una purtroppo una tristissima anteprima a livello mondiale di cui siamo stati protagonisti e lì credo che il genio italico abbia consentito loro di applicare le nozioni apprese in entrambi i campi cioè in campo di soccorso valanga in campo di soccorso terremoti e coniugarli in un unico intervento che era di natura assolutamente eccezionale questa cosa mi ha molto impressionato e penso che quindi siano stati veramente veramente bravi a quasi improvvisare sul posto un soccorso per il quale che non era mai stato previsto in nessun protocollo operativo in nessun manuale loro penso che si fosse mai rappresentata la possibilità di un crollo di un edificio così grande ricoperto da neve detriti tronchi e materiale vario quindi è stato un lavoro assolutamente eccezionale non finirò mai di ringraziarli per quello che hanno fatto Similiano prima di lasciarti ovviamente poi ci trasferiremo proprio a Rigopiano è passato un anno lo scorso anno di questi tempi proprio qui nella zona infuriava la neve condizioni meteo davvero proibitive oggi c'è questa giornata di sole questo cielo sereno quasi una legge del contrapasso contrapasso il contrario beh niente la natura presenta degli aspetti che sono ingovernabili dalla volontà umana quindi dobbiamo tenerci quello che viene dobbiamo soltanto evitare che come l'anno scorso gli eventi che la natura ci propone possano diventare fonte di sciagure in mani come quella dell'anno scorso i compiti quei compiti spettano a noi uomini non possiamo certo comandare il meteo a quello ci pensi il creatore però possiamo eventualmente evitare che possa trasformarsi poi in tragedia bene io ringrazio grazie Massimiliano Giancaterino grazie al Massimiliano Giancaterino ex sindaco di Farindola fratello di una di Alessandro una delle 29 miti della tragedia di Rigopiano io ringrazio anche Gaetano Tereo Stefano Recanati per l'assistenza giornalistica Jacopo se non ci sono domande io qui da Farindola restituirei la linea allo studio ovviamente ora ci trasferiremo su a Rigopiano proprio per effettuare altri servizi che poi proporremo nel corso del nostro telegiornale delle 14 linea a te grazie grazie Paolo grazie ovviamente a Massimiliano Giancaterino avete sentito un parente di una delle 29 delle 29 vittime peraltro avete visto oggi meteorologicamente parlando a Farindola giornata splendida con la montagna innevata ma soleggiata insomma poi avete visto anche le immagini terribili esattamente di un anno fa eravamo davvero sembrano due mondi diversi invece purtroppo stiamo parlando dello stesso identico posto vediamo anche lo speciale proprio su Rigopiano del centro i familiari delle vittime al Quirinale lunedì ci sarà l'incontro con il capo dello Stato Mattarella dall'altra parte c'è l'intervista a Francesca Bronzi la pescarese sopravvissuta dopo 58 ore sotto le macerie vado avanti con la forza che mi dà il mio Stefano parla Francesca Bronzi fidanzata di Stefano Feniel morto proprio a Rigopiano il futuro dice non lo vedo non lo vedo più poi c'è anche il programma della cerimonia che sarà in due parti ci sarà anche il vescovo Tommaso Valentinetti fiaccolata fino a Farindola alla chiesa di San Nicola vescovo per la messa alle 14.30 poi il cerimoniale si sposterà appena ci sarà la benedizione di 29 piante insomma vedete che è una cerimonia che andrà avanti per tutto questo 18 gennaio e poi ci sono anche ovviamente parallelamente c'è la necessità di ricostruire quello che è successo avete sentito Massimiliano Giancaterino ha detto la giustizia è inevitabile e speriamo ovviamente che sia così e ci sono queste testimonianze che continuano anche a distanza di un anno chiamiamo ma nessuno ci dà retta gli ultimi messaggi delle vittime di Rigopiano nel libro in edicola proprio con il centro ma sono veramente testimonianze da brividi le storie il vigile del fuoco Giancarlo e il piccolo Edoardo un'amicizia che durerà il bambino che ha perso i genitori e il suo salvatore si sono incontrati di nuovo l'uomo questo rapporto per me è un inedito ma quella tragedia è particolare dall'altra parte ricordo il pianto di parete nel resort ho perso amici veri il racconto dell'istruttore di sci alpinismo Fabio Pellegrini è stato lui a guidare i soccorritori nel luogo della tragedia le storie che sono davvero tante la montagna devastata la valanga assassina che ha annientato anche il paesaggio il resort a quattro stelle è travolto da una forza di 120.000 tonnellate cancellato il bosco di alberi secolari una ferita di due chilometri e vedete anche il riassunto la forza della valanga 500 metri sul punto del distacco lo spessore della neve due metri e mezzo 50.000 tonnellate la massa di neve due chilometri lo spazio percorso 120.000 tonnellate il peso che si è abbattuto nella zona di accumulo sull'albergo davvero una potenza devastante il dramma dell'hotel Rigopiano ricostruito in questa in questa vignetta in questo schema la valanga si è staccata dal monte Siella sovrastante la struttura a causa delle scosse sismiche del 18 gennaio perché ricordiamo la neve ma ricordiamo anche la combinazione di quei fattori che è stato un mix letale purtroppo per le persone che c'erano in quel resort e l'allerta della regione con due giorni di ritardo nell'ufficio senza personale nessuno inviò il bollettino meteo l'allarme valanghe diffuso il giorno dopo la tragedia in basso la morte di Gabriele Perlina il non conta Francesco D'Angelo fratello del cameriere dell'hotel si batte perché gli venga riconosciuto l'indennizzo insomma vedete sono tante storie purtroppo quelle che si accavalano in questa tragedia incredibile peraltro che possiamo ritrovare anche sul quotidiano il messaggero Rigopiano un anno dopo musica e preghiere nel giorno del ricordo il 18 gennaio 2017 la valanga che cancellò l'hotel celebrazioni a penne e farindola comunità vicine ai parenti delle vittime in basso gli investigatori ancora al lavoro dopo la raffica di interrogatori in mattinata la fiaccolata dal luogo della tragedia alla chiesa del paese per la messa 29 alberi di leccio dedicati ai caduti nel palasporto che ospitò la regia dei soccorsi e poi ci saranno anche degli eventi culturali andiamo avanti ovviamente perché poi durante la giornata durante i nostri notiziari vi proporremo tutti gli approfondimenti per questo cerimoniale che andrà avanti per l'intera giornata a Farindola ma soprattutto a Rigopiano e a penne continuiamo con le altre notizie torniamo a Montesilvano studenti a lezione di etica e solidarietà accoglienza agli immigrati e finanza d'assalto due giornate di approfondimento per gli studenti dell'istituto Alessandrini a centro pagina subito un ecografo per il consultorio sopra il luogo dei 5 stelle a Montesilvano al distretto sanitario per sollecitare l'acquisto dell'apparecchio in basso SOS sulla primaria di via Verrotti è una scuola pericolosa andiamo avanti andiamo a Francavilla al mare porto turistico cantiere chiuso entro febbraio il titolare della nuova Oceanus aperte in ritardo per le opere in ritardo per le maleggiate ma il comune deve ancora trovare le risorse per rendere l'approdo operativo in basso Terna paga solo opere pubbliche San Giovanni Tiatino il sindaco Marinucci ribatte a Qtrupi Movimento 5 Stelle sull'ex fonderia a San Giovanni Tiatino via Ciafarda nuovo asfalto segnaletica e pista ciclabile siamo a Chieti libretti svuotati agli anziani a processo spariti 125 mila euro dai conti due dipendenti degli istituti riuniti ora sospese accusate di circonvenzione di incapace raggiri alla casa di riposo Lucchetti al Palacus Ateneo l'ex direttore generale del vecchio condannato cronaca 30 kg di droga nascosti nel terreno rimaniamo a Chieti albanese seguito da Chieti Scalo fino alle campagne di Bucchianico è arrestato la marijuana era sotto le foglie in basso San Giovanni Teatino c'è un'altra vittima degli abusi allenatore indagato il racconto di un bimbo fa scattare l'inchiesta bis e poi il caso ad Atessa la onda rientegri 10 precari azienda condannata a riassumere i carrellisti di due ditte esterne ovviamente siamo ad Atessa all'Aquila pesca seroli muore neonata di tre mesi ma l'ora inculla poi la disperata corsa verso l'ospedale soccorsi ritardati dal maltempo perché l'elicottero del 118 non può volare allora è una tragedia che fa scattare l'inchiesta e potrebbe trattarsi di un caso di SIDS che non trova alcuna spiegazione scendiamo in pagina il dramma al laghetto di Ortucchio video sequestrato dai carabinieri in basso troppi incarichi e bufera sull'assessore l'Aquila cittadino accusa l'assessore Monica Petrella così non si può operare per il comune il suo gruppo invece dice lavora lavora bene intanto una notizia che vi do appena battuta dall'agenzia ANSA una scossa di magnitudo di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco dopo le 5 di questa mattina nella provincia di Macerata secondo quanto registrato dalla sala sismica dell'istituto dell'ingv il sisma ha avuto luogo alle 5.01 a una profondità di 10 km con epicentro nel comune di Muccia in provincia di Macerata nella stessa zona e in provincia di Perugia erano stati registrati diversi movimenti di minore entità già dal pomeriggio di ieri però vi ripeto la notizia principale scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Macerata questo è un lancio dell'agenzia ANSA proprio delle ore 5 e 20 proseguiamo con la lettura dei quotidiani rimanendo sul centro poi andremo sul messaggero il caso tuo università doppio incarico processate d'amico il PM firma la richiesta di rinvio a giudizio anche per Mattioli e Traini il rettore massima serenità e tranquillità di SPAL master plan via recupero dell'ex manicomio con 35 milioni di euro in basso Castrum processo bis per la Mastropietro a giudizio anche il marito di Filippo i fratelli Scarafoni l'ex presidente del consorzio Palme di Saverio torniamo sul messaggero riprendendo da dove avevamo terminato siamo rimaniamo sull'area metropolitana di Pescara in questo caso siamo a Francavilla io bloccato dalla norma antisindaci il primo cittadino di Francavilla Antonio Luciani rinuncia a correre per la regione se la prende con D'Alfonso per la mancata modifica della legge la mia disponibilità non era un segreto ma la giunta non ha mosso un dito nel silenzio assordante della politica a Montesilvano reagisce ai carabinieri arrestato dopo una birra non pagata a centro pagina buone azioni da Francavilla al Burkina Faso per aiutare i bambini le scuole buone forestali alla Virgilio la presentazione del calendario CITES sulle specie protette e poi Tito Acerbo open day speciale per i 95 anni cambiamo pagina andiamo all'Aquila 5 stelle arriva Di Maio ma esplode il caso primario domenica passeggiata nel centro storico del candidato premio del movimento parlamentare su internet al veleno l'attivista Fioravanti io dice sono stato depennato aeroporto di preturo ovviamente verso la revoca la convenzione con Xpress e poi tornando sempre alla politica le scelte del PD pezzo pane fina tandem perfetto occhio però agli outsider in basso lotta lo spaccio della droga due arresti e nove denunce questo è il bilancio dell'operazione rimaniamo sempre all'Aquila la burocrazia fa marcire il palazzetto appelli dal mondo dello sport per salvare la struttura il vice sindaco assicura entro 15 giorni la soluzione per la nuova copertura 4 mesi di lavori sono previsti pratica ferma il genio civile serve l'autorizzazione sismica scendiamo in basso il caso infermera ladra in corsia all'ordine dice siamo ovviamente indignati ricorderete il caso dell'infermera che rubava in corsia all'ospedale San Salvatore andiamo a Pescasseroli perché c'è il caso questa tragedia muore a tre mesi si indaga sui soccorsi la piccola era insieme alla giovanissima madre quando avrebbe avuto problemi respiratori forse per il raffreddore l'elicottero non è intervenuto a quanto pare per le avverse condizioni meteo il decesso nell'ambulanza verso Avezzano a Sulmona pochi medici nel carcere e allora i sindacati lanciano l'allarme andiamo avanti ad Avezzano di Pangrazio ecco perché sposo la causa dei civici sempre ad Avezzano vento forte cade un ramo davanti alle scuole andiamo avanti siamo a Lanciano rubate le divise degli infermieri ladri in azione nella notte all'ospedale San Pio di Pietrelcina scassinati gli armadietti del personale spariti i camici bianchi anzi siamo a Vasto prese anche le tute dei sanitari del 118 si teme che possano essere utilizzati come travestimento per altre azioni criminali altre notizie di cronaca Vasto anziano raggirato coniugi denunciati e poi a Lanciano sottrae i soldi alle poste un dipendente condannato accusato di peculato ha risarcito 6.605 euro a Teramo recupero dell'ex manicomio partita l'impresa del rettore abbiamo deciso di raccogliere la sfida per una cittadella della cultura Dams e scienze della comunicazione nella struttura che prevede più lotti ma di spalla sempre il rettore caso tuo doppio incarico la procura vuole processare d'amico per la politica siamo invibrato il segretario espulso dal PD ad Alba si presenta alle comunali da solo e poi in basso il giudice si toglie la toga per interrogare la bambina il gesto durante una delicatissima udienza in tribunale per i dissidi tra i genitori a Giulianova macelleria assaltata un arresto due feriti colpo fallito alle carni in via Ippolito Nievo malvivente bloccato mentre cercava di fuggire con prosciutti lonze e soldi l'uomo per scappare ha colpito i militari con un cacciavite ma sono riusciti a fermarlo e successivamente ad arrestarlo sempre a Giulianova cade cartello incidente sfiorato in via Nazario Sauro poi l'inchiesta Castrum sette a giudizio per corruzione e abuso altra questione in Val Vibrata spaccio e riciclaggio di gru tre finiscono in manette visto che siamo in provincia di Teramo leggiamo rapidamente anche le questioni che riguardano Teramo Città il master plan il manicomio sarà una cittadella della cultura il rettore D'Amico presenta il progetto di recupero da 25 milioni per riqualificare la struttura della ASL e viene riassunto un po' quali saranno gli interventi da fare ma per D'Amico è stato chiesto il giudizio doppio incarico tablet e indennità stessa richiesta per i professori Mauro Mattioli e Stefano Traini andiamo avanti rimaniamo a Teramo ma per la politica anzi per la questione tra una questione ACS e non solo volano gli stracci tra Fiorenza e Coccagna l'ex presidente di ACS rifiuta la carica onoraria si sfoga con un lungo commento su Facebook Garrano la soluzione peggio del problema la frazione teramana isolata è lasciata senza trasporto pubblico dalla variante della statale 81 per la provincia seconda vittoria di Davide contro Golia Terna condannata a pagare l'occupazione del suolo pubblico a Crognaleto per i suoi tralicci ancora per la provincia alberi caduti e grondai e divelte dal vento forte giornata di super lavoro per i vigili del fuoco di Teramo oltre 20 interventi in tutta la provincia adesso vediamo rapidamente lo sport la corsa che riguarda proprio un insomma Gabriele Gravina la corsa alla poltrona più prestigiosa della Federcalcio Gravina dice io aggrego Sibiglia e Lottito invece dividono intese programmi il capo della Lega Pro verso le elezioni del prossimo 29 gennaio la corsa alla presidenza FIGC Gabriele Gravina peraltro ex presidente del Castel di Sangro Cosimo Sibiglia e Damiano Tommasi anche se abbiamo visto ci sono prove di intesa tra Tommasi e Gravina ma una bella notizia il nostro assistente elenito di liberatore sarà assistente anche a Russia 2018 l'assistente abruzzese nella terna arbitrale che sarà guidata da Rocchi l'unico peccato insomma che non ci sarà l'Italia ma una parte d'Italia ci sarà con gli arbitri questioni della Pescara Coda difensore biancoazzurro l'ottavo posto possiamo fare meglio il centrale difensivo con un pizzico di malizia potevamo avere almeno 8 punti in più pettinare il top della B Capone è un talento peraltro il Pescara dopo domani pomeriggio tornerà in campo per la prima del girone di ritorno allo zaccheria di Foggia allora si preparano i biancazzurri con un trissal Lugano mancuso sugli scudi Weitz sblocca l'amichevole poi l'ex San Benelettese realizza una doppietta contro gli svizzeri e poi le parole di Gravillon e il nuovo acquisto mi ispiro niente meno che all'Ilianturam insomma un paragone importante il difensore arriva con entusiasmo questa è la squadra giusta per me e ovviamente noi auguriamo che possa essere forte almeno quanto l'Ilianturam invece il Foggia sul mercato è scatenato già sei acquisti squadra rivoluzionata e non finisce qui pronti altri due colpi in serie C torna in campo anche il Teramo Amadio alla riscossa un filotto di risultati per poter segnare sabato Teramo in campo al Bononis contro il Vicenza Bacio Terracino Barbuti e Tulli in palla nel test in famiglia e poi in serie D il difensore Caffiero dice no all'Arezzo per restare all'Aquila un po' una questione Verdi Bis che ha rifiutato il Napoli per restare a Bologna nonostante le difficoltà societarie il giocatore sceglie di non lasciare il gruppo costruito da Battistini altre notizie di serie D Avezzano sul campo del Monticelli senza Deramo squalificato e Pollino Nero Stellati il nuovo corso di Corcia a Pescina sarà un debutto da ex ancora San Nicolò sabato derby all'Orsini Cannella in casa bisogna fare il pieno Pineto Amaolo serve maggiore scaltrezza nel finale ancora in basso Francavilla e Vastese vediamo il Francavilla Iervese recupera Mele ma non a Menta in casa Vastese Colavitto paghiamo le assenze tanti contrattempi stanno fermando la nostra corsa chiudiamo con lo sport del messaggero in casa Pescara non potevo dire di no al Pescara Gravillon ha scelto il numero 28 come numero di maglia e la mia data di nascita con Zeman dice potrò crescere tantissimo nel frattempo è ufficiale Benali è un nuovo giocatore del Crotone ed è Mancuso show nel test di lusso con il Lugano doppietta per l'attaccante Biancoazzurro poi in basso L'Aquila devi liberare Caffiero parla il procuratore Peppe Schiraldi si potrebbero avere più risorse economiche per la società anche se abbiamo visto che l'intenzione di Caffiero non è quella di lasciare il sodalizio rosso-blu e poi cambiamo pagina Lega Pro Amadio si riprende il Teramo il regista rientro contro il Vicenza la gara decisiva che non si può sbagliare per il rugby promozione l'Aquila al debutto in casa con questa notizia noi terminiamo anche questa rassegna stampa io vi ricordo oggi alle ore 14 il primo appuntamento con il nostro telegiornale la prima edizione che avrà amplissimo spazio dedicherà tantissimo spazio alle commemorazioni a un anno dalla tragedia di Rigopiano mattino 6 invece torna domani mattina puntuale alle ore 8 è tutto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti